Ciao a tutti! Oggi prepareremo il gelato veloce al cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero a velo, cacao amaro, cioccolato fondente, latte congelato e vanillina. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere lo zucchero a velo, il cacao amaro ed azionare il baby per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il latte congelato a tubetti. e la vanillina. Ed azionare il baby per 30 secondi a velocità 7 spatolando. riporre in congelatore per un'ora prima di servire. Gelato veloce al cioccolato, grazie. e alla prossima ricetta. rendita Grazie a tutti. Grazie a tutti.